3, 2, 1, via! A inizio la ventesima straoratorio! Bravissimi! 20 edizioni per la straoratorio, la marcia solidale non competitiva organizzata dall'oratorio San Giovanni Bosco di Clusone insieme alla sua polisportiva ha tagliato quest'anno un traguardo speciale Nata per festeggiare il centenario dell'oratorio, oltre a un momento di festa condiviso la manifestazione vuole essere l'occasione per sensibilizzare alla missionarietà e alla solidarietà Si svolge ad ottobre, mese missionario, ma anche il periodo in cui prende il via l'anno pastorale Se settimana scorsa l'abbiamo aperto l'anno pastorale in maniera più liturgica col mandato catechisti Oggi invece è un giorno di festa in cui cammineremo insieme come comunità per le vie della nostra Clusone per dire che siamo pronti a vivere questo anno pastorale appunto come pellegrini di speranza Oggi il tempo non ci ha proprio accompagnato del tutto ma non ci ha neanche abbandonato quindi come vedete siamo qui in tanti per iniziare questo nuovo anno Nonostante il cielo grigio, i partecipanti sono stati più di 400 Il percorso quest'anno si è snodato nella parte bassa di Clusone toccando le fiorine per poi tornare verso l'oratorio La giornata è poi proseguita con il pranzo e un pomeriggio di festa Ancora una volta con parte del ricavato verrà sostenuto un progetto missionario La stauratoria nasce proprio come progetto per aiutare le missioni Quest'estate con un gruppo di giovani andremo in Africa, in Mozambico e vogliamo portare parte del ricavato che oggi raccoglieremo proprio per quelle terre, per le missioni che incontreremo in questa estate Insomma la stauratoria è anche un momento in cui ci pensiamo agli altri Ci prendiamo cura degli altri, non è solamente un momento in cui pensiamo a noi stessi al nostro cammino che sta per cominciare ma abbiamo un occhio anche al di fuori, come dice Papa Francesco, verso le periferie